Musica Nel corso della settimana dell'educazione che vede impegnate le tre comunità di Bianchi, Colossimi e Pedivigliano quest'anno in occasione della festa di San Giovanni Bosco, fondatore della congregazione salesiana abbiamo voluto invitare in mezzo a noi Monsignor Nunneri in qualità di Vescovo Emerito della nostra Cidiocesi di Cosenza Bisignano ma soprattutto l'abbiamo voluto invitare in qualità di amico di queste comunità per il suo apostolato, il suo ministero in mezzo a noi e soprattutto con quel grande ricordo e stima che questa gente nutre nei suoi confronti. La serata è stata riccamente animata dopo la celebrazione eucaristica presieduta dalla Sua Eccellenza Monsignor Nunneri è stata arricchita dalla presentazione di questo libro che racconta la sua vita di pastore impegnato in mezzo alla gente di Calabria. Per noi è interessante tutto ciò in quanto la settimana dell'educazione promuove quella che è la cultura soprattutto come valore da far passare soprattutto nelle nuove generazioni. È una serata importante in questa cornice culturale, religiosa che vede impegnate queste tre comunità ma soprattutto è una serata ricca di sentimenti e di emozioni che hanno visto in mezzo a noi un pastore dal cuore attento alle necessità di ogni persona che le è stata messa accanto. Grazie a tutti! Grazie a tutti!